Eccoci qui ragazzi con il nuovo iPad, acquistato qui all'Apple Store di Bologna dopo una fila di moltissime ore. E' quello che è il minimo sindacale secondo me, 32GB, Wi-Fi 4G, e adesso andiamo a effettuare l'unboxing in diretta. Quindi apriamo il nostro iPad. Eccoci qui, vuoi anche con un... No, ci sono riuscito, grazie. Eccoci qui stiamo scartando il nuovo iPad, in diretta, nella Forza di Bologna. Eccolo qui in giù. Un poggio qui sotto. Eccolo qui. Con permesso. Prego, prego. Come sono precisi qui all'Apple Store. Ecco il nostro iPad bianco, fantastico ragazzi, veramente bellissimo. Eccolo qui, dove lo vediamo, nel dettaglio. Ovviamente è una scatola sempre con pochissima roba, ma ormai sappiamo quello che ci inseriscono dentro. Eccolo, a me sinceramente non mi soddisfa per niente, un caletto che è il nuovo, un po' più sottile, ma sia per la ricarica che per il collegamento. Gli attacchi italiani, ovviamente. E poi il classico libretto illustrativo con qualche desiderio. Non c'è nessuna pezzettina per pulire il display, non c'è nessuna cuffietta, nessuna custodia, insomma. Qualcosa potrebbero permetterci, diciamo, in questa confezione. Questo è l'iPad bianco che ho scelto. Sono andato sul bianco perché, diciamo, il nero è un po' sottato. Molto contento. Adesso lo proviamo subito. Vediamo come funziona. di stringere un po'. Anche perché ho tre minuti. Ecco qui la mela. Già dalla mela si vede che è un display, ovviamente. Adesso ne ho timore. Appena fissato potrebbe finire subito l'avventura. 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 Nato male. Andando, ovviamente, lo sbocchiamo in italiano. Andiamo avanti. Non soffermiamoci troppo. Vediamo che dovrebbe essere tutto ok. E benvenuta anche a te. Display favoloso. Impossando la lingua. In Italia, andiamo avanti. Vediamo il servizio di localizzazione. Facciamo. Ecco, store. Un store. Un store. Stato? Stato. Stato. Sta per attivare l'ipad. O ipad che mi vogliamo chiamarlo. L'ipad è pronto per l'uso. per sapere io vorrei ripristinare un backup di ipad uccidiamo con il di andiamo avanti abbiamo quasi finito lo stai impostando abbiamo quasi finito ultimato l'unboxing l'associazione il nostro splendido ipad che veramente ci darà molto soddisfazione ci mette ancora un attimino vogliamo usare iCloud usiamo iCloud no non usiamo iCloud lo impostiamo dopo eccolo qui finito bello che è pronto tutto ok è complico grazie